La vostra iniziativa merita rispetto e crea anche la speranza di un dialogo che già esiste tra il popolo albanese e l'Italia, e in particolare la Puglia, che è la regione, come dire, corrispondente dell'Adriatico, frontale, eccetera. Ed è anche un modo, a mio avviso, di ricordare anche le tragedie del mare, perché, insomma, si dice mare nostrum, ma delle volte mare mostrum, in quanto c'è un'indifferenza spesso del resto dell'Europa, mentre l'Italia, invece, secondo me, sta facendo più anche del necessario fare il suo dovere. Quindi voi partecipate con le vostre forze, con le famiglie, in maniera vitale, giocosa, ludica e sportiva, a questa coesistenza dei popoli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scusa che... Come si dice, l'ultimo arrivato non è per il vostro team. L'ultimo acquisto è proprio... L'ultimo acquisto è per il mondo. L'ultimo acquisto è per il vostro team. Bruseghin, nove e mezzo I Lele Oriali del Veneto Un mito, prima o poi gli dedicheranno una canzone Come fece il buon Ligabue con 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 Ligabue con